Non ho mai frequentato niente di professionale di fotografia, sto trovando un corso per principianti molto interessante. Mi interessava approfondire un pochino di più il discorso del ritratto, il ritratto ambientato e la presenza sul set di una modella. È difficilissimo perché lavorare con tante persone intorno che ti devono fotografare è molto faticoso. Mi sono trovata molto bene da subito con Marco, è una bella esperienza, mi sto divertendo molto, mi sono molto divertita, mi sono subito trovata a mio agio. Ho già frequentato un corso con Marco, mi ero trovata molto molto bene. Mi piace molto quest'idea del creare un set, fotografare in tutti i suoi aspetti una persona. Mi sono accostato a questo corso di fotografia per un ripasso generale sostanzialmente, ma anche per scoprire tecniche nuove o comunque affinare quelle che erano già le mie caratteristiche fotografiche da foto amatore. Osservare come a seconda delle luci, a seconda di come andiamo a cambiare gli sfondi e quant'altro, cambi completamente la foto e quali siano le varie sfumature che si possono ottenere. E' stato molto interessante perché abbiamo potuto esplorare l'aspetto del ritratto fotografico dalla prima fase, che è quella dell'approccio e quindi quella degli sfondi un po' più semplici a quelle che poi possono essere le posizioni adottate dalla modella durante lo scatto della variazione degli sfondi. Sono tutti bravissimi, perché ho già visto delle foto e alcune sono strepitose. Per cui insomma direi che siamo a cavallo.